Dagli una mano va che è mezzo scoppiato, certo che ce l'ha fatto, va bene così, quanto è stato in girono? 4.20? Buongiorno Andrea, oggi siamo arrivati alla sesta settimana della preparazione della mezza maratona primaverile che cosa ci raccomandi per questa settimana? Praticamente l'ultima settimana di carico per la mezza maratona direi fondamentale per capire i ritmi da tenere in gara poi. Quindi in settimana che cosa ci suggerisci? Allora questa settimana faremo un mezzo lavoretto, un richiamo di salite, facciamo di forza, facciamo 40 minuti di corsa lenta prima, un po' di fondo e dopo facciamo 3 serie da 5 salite in sprint sui 100-120 metri circa. A me piace farle qua sui cavalcavia che sono comodi, magari con i pedonali dove non ci sono macchine che ci possono stirare. Mentre il secondo allenamento della settimana direi è il test fondamentale, secondo me sono 4 volte i 3.000 a ritmo mezza maratona con un recupero di 1.000 metri 30 secondi più lenti. Diciamo che se riusciamo a tenere sui 3.000, soprattutto sull'ultimo, il ritmo che ci eravamo imposti per la mezza maratona siamo a buon punto. La domenica invece ci buttiamo dentro un lunghetto 16-18 km, dipende come siete abituati, come riuscite a recuperare poi per la mezza maratona della settimana dopo. Differenzeresti il ritmo tra principianti e amatori la domenica? La domenica io direi di fare una sgambata, 16-18 km il ritmo non deve essere importante, è importante il ritmo dei 3.000 del giovedì, venerdì, quando farete quel lavoro lì. E invece Andrea, per chi dovesse gareggiare nel weekend, hai qualche suggerimento? Guarda, il massimo di gara che possono fare è una 10 km, ma è abbastanza tirata per i capelli, perché la settimana dopo arriva la mezza. Dipende sempre come si recupera una 10 km. Qualche atleta l'ha fatta una 10 km prima di una mezza, il problema è l'effetto personale, che se dovessimo fare il personale su una 10 km potremmo arrivare scarichi di testa alla mezza maratona. Andrea, per chi dovesse partecipare alla maratona, che cosa suggerisci per la settimana? Allora, per la maratona innanzitutto differenziamo il primo lavoro che facciamo, per un principiante farei un progressivo partendo sempre dal ritmo del lento, andando a un ritmo un attimino più svelto e finendo un attimino più forte del ritmo maratona. Circa, dipende dal tempo, farei un 14, 15, 16 km, poi a me piace fare tanti km, quindi ne consiglio di far tanti. Invece per un amatore farei un lavoro in pista, farei un 800 forte, senza guardare i ritmi, ma ha proprio sensazione, un recupero di 200 metri in supplessa, proprio corsa lenta. Lo terrei anche questo per 14, 15 km circa. Il lavoro del giovedì o venerdì, dipende quando siete abituati, invece farei un lavoro bello lungo, farei un 18-20 km di medio, sarebbe da fare collinare per chi non ha problemi alle ginocchia, oppure su sterrato, sarebbe bellissimo farlo su erba, tipo qua noi abbiamo al campo un giro di 500 metri che tempra anche la testa, e farei 4 minuti un pochino più forte del ritmo maratona e 4 minuti poco più lenti del ritmo maratona. Quindi dovrebbe uscire come media finale un ritmo maratona e dovremmo uscirne molto bene da questo lavoro. Ovvio che per un amatore abbastanza evoluto farlo collinare è praticamente impossibile tenere il ritmo maratona, quindi è un po' da valutare questa cosa, magari aiutiamoci anche con i battiti, con i vecchi lavori sul medio vediamo i battiti medi e cerchiamo di tenere quelli un po' di più e un pochino di meno. La domenica, scusami Max, la domenica, se no dopo mi dimentico, invece terrei sempre un pochino di chilometri, ne terrei un 25-26, il ritmo non è importante, però se vogliamo finire abbastanza svelti gli ultimi 5-6 è solamente di riguadagnato. Una delle domande che ricevo su Whatsapp e su Messenger, la domanda più frequente è ma io non ho così tanto tempo il giovedì per correre un allenamento così intenso per così lungo tempo. Quello è un grosso problema, adesso anche fare la domanda così ci dovrei anche pensare, dovremmo valutare di caso in caso, potremmo valutare di fare un doppio lavoro, però sarebbe da togliere a questo punto il lavoro del martedì da togliere, magari tenere un lento svelto e fare un giovedì-venerdì una specie di doppio medio a ritmo maratona. Direi che non è proprio eccezionale come cosa, fondamentalmente preparare la maratona ci vuole tempo e fondamentalmente bisogna arrivare a finire una maratona bene, quindi bisogna avere chilometri, bisogna provare i ritmi per tanto tempo. Fare 10 chilometri fortissimo non ci dà la sicurezza di chiudere una buona maratona, oppure potremmo fare dei lavori più o meno da mezzo maratona e allungare il lungo della domenica. Visto che siamo quasi a metà della preparazione, che consiglio dai a chi prepara la maratona? Valutate prima la stanchezza in questo periodo, valutate anche se ogni volta che fate i ritmi maratona siete tiratissimi, se no ho da cercare di tirare un pochino indietro e rivalutare i vostri tempi. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo la settimana prossima. Ciao! 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 Ciao!